Yugi a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui con il nuovo episodio del market watch come ogni settimana per guardare alcune cosine che ha annunciato konami perché ci sono delle bombette in mezzo di cui andremo a parlare detto questo ovviamente ragazzi prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di giochi da tavolo fanco trading card game gli hanno tutti da union arena a Yugi a one piece a magic al purcano ragazzi quello che volete ce l'hanno ovviamente se volete supportarmi e ovviamente avere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi per l'acquisto ragazzi se volete acquistare roba coreana roba giapponese tutto di Yugi anche roba come slip e così roba carina trovate anche di lui il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto in più se volete liberarmi di carte di Yugi magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo andiamo a vedere cosa hanno spoilerato bene ragazzi parliamo di luce della distruzione reprint perfetto per chiunque non sapesse di che set io stia parlando si parla di un set di quando di vent'anni fa oramai più o meno allora sono passati almeno 16 anni era il 2008 quando uscì la prima volta luce dalla distruzione ed era maggio maggio mi pare del 2008 o luglio maggio giugno la serie prima di the duelist genesis in poche parole ok l'ultimo l'ultima espansione della serie gx se vogliamo essere esattamente e konami 16 anni dopo ha deciso di ristampare questo set in maniera totalmente possiamo dire insensata perché rispetto alle sue normali mosse di marketing diciamo che è un po contro tendenza capisco i primi 6 set come hanno fatto l'anno scorso per ovviamente il 25 annale ma questo anche se siamo comunque nel 25 annale mi sembra un po strano probabilmente ragazzi questo è rapportato al fatto che il lede sono stati annunciati nuovi supporti lightsworm e quindi per permettere alle persone ovviamente di avere sia le carte vecchie che le carte nuove hanno deciso sia di ristampare il set per dare anche delle max rarity belle potenti in più hanno deciso se non ricordo male di ristampare lo structure deck lightsworm dove c'erano i primi supporti usciti anche quello quest'estate quindi potrebbe essere molto interessante adesso vediamo sicuramente ragazzi quando uscirà boxettino che fai te ne privi non credo non ti privi neanche di una cassa più che altro perché ragazzi se konami fa le rarità come quelle di una volta c'è l'onesto ghost c'è il jd secret ma vabbè le secret ci stanno anche adesso ma ci stanno le ultimate ovviamente non avranno lo stesso print avranno probabilmente quello degli ots però vi dirò si spera si spera si spera perché ho paura di quell'ultimate da arity terribile che non è ultimate sì se fanno quelle ultimate io giuro che vado alla sede konami con un fucile e basta un super liquidator un fucile da super liquidator a bagnare l'entrata sì 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 come protesta come fanno tipo gli attivisti che vanno nei musei a rovinare le opere d'arte sì 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 più o meno lo stesso principio vi dico ragazzi potrebbe essere una roba veramente incredibile però visto che hanno annunciato questo prodotto unlimited io andrei a vedere un attimo i prezzi effettivi dei prodotti se per caso ne hanno subito botta o non gli è fregato assolutamente niente spoiler non credo gli abbia fregato effettivamente niente però almeno ci vediamo a quanto stanno partiamo adesso dal pacchetto attualmente da come possiamo vedere unlimited credo in inglese si aggira all'incirca sui 25 euro più o meno e il picco da 450 forse in prima attualmente non è neanche così inaccessibile sia in italiano che in inglese con le prime edizioni si costano qualcosina di più italiano ovviamente noi ci facciamo sempre riconoscere con il 200 euro pacchetto però nel senso ma non si trovano più porco me lo potete succare tutti eh già già sì io di questi ne ho aperti una valanga perché compravo quei cofanetti dove c'era il suo pacchetto quello di ptdn e un altro e c'era la promo dell'onesto ultra una valanga ah sì la la terza reprint tipo perché bisogna anche dire che tutti i pacchetti sono stati ristampati tipo light of destruction non ha solamente il primo il prima edizione l'unlimited ma c'è anche l'unlimited dei tin c'è l'unlimited dell'edizione twilight se è uscito un altro prodotto c'è l'unlimited anche per quello perché non sono pacchetti vecchi e questo è un concetto che deve essere chiaro a tutti quando rivedete un pacchetto reprintato non è che è stato preso dai magazzini della della pokemon company della konami sono reprintati in quel momento fine sì il fatto è che all'epoca lo riconosci poco sicuramente con la reprint nuova la stampa la noti ah beh sì assolutamente più che altro la reprint vecchia la notavi perché in twilight edition usciva la rara e la foil che generalmente non usciva in questi pacchetti era solo rara o foil ok andiamo avanti abbiamo adesso l'edizione speciale dovrebbe essere questa quella che aprivo io giusto sì l'edizione speciale quella da tre pacchettini con curazzo oppure legame corda della vita qualcosa è vero è vero e questa si aggira sugli 85 euro ovviamente noi meno meno di 200 queste cose non si possono vendere ormai mi dispiace crolla perché c'è una nuova unlimited ragazzi e diciamo che il suo prezzo vero tra i 65 70 massimo 80 e questo prezzo qua 200 non non esiste perché questi picchi a 100 potrebbero essere quelli in italiano tutto qua prima 100 ancora accettabile ma c'è due 200 cazzo ti sei fumato dio soprattutto perché questi pacchetti l'abbiamo visto prima stanno in circa sui 30 euro l'uno quindi essendo tre pacchetti ci può stare il 90 centello è non di più sicuramente ma adesso andiamo a vedere la cosa più interessante ovvero il box 12 mila euro ragazzi di box in prima non ha senso non ha senso qua l'hanno fatti sparire perché a parte che nel 2016 2017 2018 2019 si vendeva 350 400 euro poi ovviamente sono spariti dalla circolazione e c'è stato un venduto a 1800 ovviamente 1800 attualmente è un prezzo onesto per un box del genere in prima edizione 12 mila non esiste non esiste il problema qua è che non è presente sul market ma credo che cercando in qualche gruppo da qualche parte li trovi cioè non ti sparino cifre del genere perché se te li guardo ho visto ho visto su un gruppo che chiedevano 5 mila euro per un box di rivoluzione cibernetica in italiano sì 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 vuol dire che gli scalper tentano sempre di fare cose irragionevoli perché è sbagliata questa logica di di viaggiare su uno sui ricordi della gente due sul dire è il prodotto nel deck non c'è la print non avete mai giocato ma quello che mi fa ridere è che vabbè tanto lo sappiamo questi box da qualche parte stanno e ho visto un box di glass in vendita da un negozio che lo faceva un prezzo vero non lo faceva a 50 mila euro lo faceva sui 1500 2000 più o meno che comunque stiamo parlando di glass ragazzi secondo me a lucia di istruzioni da due giri è uno dei miei set preferiti e secondo me ha senso 2000 euro di box in prima non 12 mila per lucia di istruzioni per quanto ovviamente ci sia il jd ci sia la lila ci siano un milione di carte cambia rana ma quella cazzo le scambia rana da 25 euro rara cioè sì 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 piangerò che tanto che tanto raga è short print di conseguenza rimane short print anche nelle print secondo me no c'erano le short print no perché nei vecchi box che hanno ristampato i primi le short print le avevano levate stessa cosa le leveranno pure qua quindi quella rana sarà molto più facile da trovare e mi dispiace io non ne sarei così sicuro io nel dubbio quelle che ho le faccio sparì subito esatto bene andiamo adesso a vederci le carte all'interno del di questa espansione le più interessanti per capire effettivamente cosa farebbe gusto avere in questa realtà quando verranno ristampate ovviamente sono anche le più costose allora abbiamo il jd secret il jd secret ragazzi è una carta incredibile bellissima non è la ultimate però comunque diciamo che è una carta te dirò in prima pensavo stessa di più in italiano invece sta sui 90 euro questo è nm che non è mai nm da due pressioni lo vedo qua è la luce è la luce vabbè ma è unlimited ma che cazzo 100 euro unlimited ma fottetevi il prezzo di sta roba unlimited è 25 euro ma l'ha caricato in prima no ma va hai caricato l'immagine sotto ok sì non è nm c'ha tipo uno sbrego in alto a sinistra ok come non detto ed è pieno di graffi sì 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 quello in prima sta a 200 e penso sia un prezzo accettabile per una carta iconica che si gioca in retroformat che metti li excellent cerca li excellent fai prima che comunque perché quelli non sono neanche nm abbiamo un prezzo più o meno pseudo vero è questo secondo me beh un bel play set a 110 euro ex io ci metterei la firma è sì anch'io assolutamente niente male però sono spariti un po a quelli a 90 euro perché ce ne erano un po non in prima al limite ad 80 90 euro c'erano sì però è vabbè comunque c'è gente che vuole giocarsi formati quindi ovviamente le carte le compro punto andiamo avanti abbiamo poi l'onesto ghost allora ragazzi con ami riporterà le ghost all'interno di un set ufficiale che non sia ghost from the past o lede no lede scusate led io spero di sì perché comunque ragazzi è una carta da 100 euro questa ovviamente questo non è un vero nm però cazzo sarebbe bellissimo allora se lo mettono io voglio comprare una cassa solo per sbustarlo e togliermi questa soddisfazione perché non c'ha prezzo non c'ha veramente prezzo attualmente è il grafico è un po in salita ha iniziato a toccare i 120 euro poi un 150 qua diciamo che le persone iniziano ad apprezzare le ghost vere rispetto a quelle finte peccato e c'è mancare lo so c'è qualcuno ci è passato prima di noi un po peccato ce l'ho siccione secret giocherò quelli vabbè peccato poi andiamo avanti abbiamo anche la versione secret questa è rimasta un po in sordina beh sordina no sta aumentando di prezzo un minimo ma come giusto che sia nel senso tanto ristamperanno con la nuova con la nuova grafica probabilmente di conseguenza queste carte potrebbero scendere un minimo di valore ma il fatto è che indipendentemente dal fatto che lo giochi in meno è la carta da collezione poi l'onesto vecchio non ha la foilatura sull'attributo quello nuovo sì solo per questo tu riconosci già la differenza e quindi guarda questo qui nm più no sì certo guarda la stellina nm più vabbè però era un buon prezzo ragazzi io ti avrei messo la 15 euro i miei si botta di culo io senza fine parliamo vabbè andiamo avanti abbiamo l'ila l'ila ultimate questa sta salendo questa questa sale basta forse perché una persona che conosciamo l'ha comprata e ho postato le foto nel grado no non credo non credo sia il caos però quelle quelle due in prima 30 a 40 meno di 40 le prenderei però qua c'è scritto buono è un po no no i primi due i primi due in prima come si è andato scusami eh questi due ah ok c'erano anche le foto cioè probabilmente se sono lì non sono nermint pure non sono prima un po' graffiato però vabbè oh cazzo carino non è nm ragazzi mi spiace peccato non guardo l'nm meno perché sappiamo già che fine fa anche questa ragazzi carta che si sta sempre di più ai pando ma vabbè ragazzi questo è lo sgorbio di prima abbiamo eren eren invece sta scendendo sempre di più non capisco perché carta onesta carta buona no allora a livello di vendita probabilmente si stanno vendendo quelle più brutte e quelle belle potenti quelle belle potenti nm continuano a salire 30 euro per una figurina così ok diciamo che rispetto a wolf rispetto a rico lila diciamo che celesti anche questa è un po un po così bello l'artwork c'è pure le gambe aperte però nel senso più di così andiamo avanti la ricarica solare ragazzi e questa è sempre bella onesta qua vedo che stanno sparendo stanno prima stanno sui 60 no sta roba c'ha il grafico solo così qua va su e giù perché ovviamente si vendono anche quelle brutte perché ovviamente inizia a costare tanto però diciamo che la gente i play set nm in prima è disposta a pagare si si ma neanche poco poi usciamo dal reparto life form abbiamo scambiarana la rara più costosa di retroformat attualmente insieme a oppression e ragazzi non ha senso sta roba ovviamente era short printata all'epoca e da quando sono partiti i retroformat sta roba è specata era scesa quando l'hanno sbandita perché ovviamente tanta gente l'ha ritirata fuori dai bike non rendendosi conto che valeva già prima e poi è risalita subito infatti play set dall'italia non esistono non esiste un play set in generale di sta roba fantastico ti conviene prendere dai alla germania c'è marco marco 98 zop che sicuro un italiano vive a monaco 12 euro luna due sono in prima una no nmx plus a 12 luna e le prenderei è un prezzo onestissimo è considerate che altrimenti dovete prendere questi sono dal belgio questa 17 17 e una 19 non è incredibile come cosa è però vabbè se volete giocare rana tanto il grafico è qua il grafico in salita sicuramente non scende per per i prossimi giorni andando avanti ritorniamo ai light storm abbiamo celestia altra carta abbastanza interessante per il mazzo diciamo sta sui 30 35 questo di game to collect sembra un prezzo anche abbastanza onesto 30 euro poi 35 anche nm meno in prima controlliamo se nm meno in prima che ovviamente non lo sarà mai dai dai su dammi delle gioie guarda quanto mamma mia è la connessione più lenta del della cablata 3 kilobyte del 2001 dai su numero un pecazzo e in chi ha un porno si carica più velocemente su quello si è le figurine il problema è anche carina non capisco se c'è delle botte laterali però mi sembra onesta sarebbe da chiedere foto del back però per 35 euro in prima se fosse veramente così bellina ci sta andiamo avanti abbiamo poi pachy che cefalo questo rimane abbastanza costante perché ovviamente antometta non ha fatto ancora top quindi non si è spagnolo non è spagnato però nel senso parliamo ma in prima in italiano non c'è nm evidentemente no evidentemente la gente l'ha fatti sparire rendendosi conto che ovviamente non può prendere quelli secret da speed duel ha deciso ma forse è ora di comprare quelli secret da loddote e effettivamente sì effettivamente il prezzo anche qua è salito cioè ragazzi abbiamo picchi che arrivano a 50 euro sta roba si vendeva a 5 euro anni fa questa cosa un po mi era trista perché me ne sono passati per le mani veramente tanti perché era una carta bella aveva un bell'artwork quindi ovviamente la volevi in collezione però va così prossima carta abbiamo ovviamente rico tornando dai lightsworm sta carta non ha senso guarda questi guarda che belli questi 10 per a 15 euro l'uno peccato che dal regno unito che ovviamente essendo uscito dall'unione europea è un po complicato averli senza pagare non limited ma sono belli sono una quantità infinita schifo a parte lui guarda che non ci sono play set si passa 23 euro in premedizione queste robe valgono tantissimo sì guarda ma sempre lui e lui ne ha una quinta nata ne ha 2 a 11 10 a 15 e 14 a 23 se le ha comprati tutti i play set sono introvabili se vuoi fare un play set in prima come faccio non si fa no non vuoi farlo perché tanto non sono manco nm perché ste carte non manco escono nm beh allora non è nm perché ha un paio di puntini qua però è bella pulita si ma è difficile quello che dico io sì vabbè rico ovviamente prezzo insensato attualmente capito andiamo all'ultimo lightsworm che è wolf questo è leggermente calato però comunque ragazzi è una carta che non esiste in play set se non a 12 euro qua è tutte questioni del me come li compro singoli e amen tipo pago 10 euro a wolf e sto a posto però la quantità disponibile è veramente poco parliamo di 288 in europa in tutte le condizioni e l'nm non è non è così ben rifornito che poi parliamoci chiaro voi chiedete le foto ma sta roba non è mai tutta nm quindi è già da toglierne la metà dettagli adesso speriamo nella reprint che ovviamente lo rifaccia super e quindi si gode si gode un pochino e andiamo all'ultima carta di lodd abbiamo gizarus anche questo si sta ipando ultimamente perché ovviamente gb piace a tutti e ragazzi da come potete vedere primo play set sta a 4 euro poi a salire gli stanno sempre le monocopia meno ma ragazzi è sempre la stessa questione con una monocopia non ci fate niente perché ne dovete comprare tre se me ne servono tre e quindi ci pagate tre euro a spedizione luna e non è così worth rispetto a pagarne una e comprarle a quattro euro e vabbè diciamo che l'odd potrebbe dare delle gioie io sono molto contento di vederlo ristampato adesso speriamo anche in glass o ptdm potrebbero essere set abbastanza papabili andiamo avanti abbiamo adesso ragazzi cosmo chi se lo aspettava cosmo nel 2024 ovviamente non sono stati annunciati i supporti non so perché si sta ipando ma in america perché uscito star wars unlimited non credo perché siano uscite le carte di star wars però dice un hype generale intorno a star wars quindi la gente piace star wars cioè in america principalmente questo è dato che amano star wars alla follia e ste carte più o meno annualmente hanno dei picchi e dei ribassi tipo mi ricordo un paio d'anni fa che era successa più o meno la stessa cosa però principalmente con il cosmo dark destroyer quello di dox e la cosa era la cosmo l'which da quella di di spina la streghetta allora però non solo perché comunque si parla di carte che hanno poche print l'eclissatore ne ha una che è quella da bosch e ovviamente ragazzi se la volete è questa appunto e basta stessa cosa cosmo distruttore oscuro che ne ha due si parla di una stampa da mago che mago oramai ne ha solo tre di print abbiamo pgl3 che ragazzi è uscita una vita fa mago che ne è uscita tipo due tre anni fa no forse quattro e poi dox che è quella più vecchia e quella più bella perché ovviamente è secret infatti ragazzi stessa questione play set 15 euro partendo ovviamente da 10 questa sotto i 10 euro da un po' di anni a sta parte non l'ho mai vista quindi è così dovete tirare fuori i sorti stessa cosa anche da mago è non costa poco no detto una cavolata da mago costa poco eh ragazzi se volete risparmiare è questa ma fa schifo a tutti vi consiglio a sto punto di prendere la secret andando avanti abbiamo adesso anche la cosmo girl che anche questa è leggermente salita è proprio poco da noi ricordo i bei tempi acquistava 50 euro appena uscì sì sì diciamo che era uno di quei mazzi che tutti volevano montare anche questo ovviamente ha la sua bella reprint che non è assolutamente da disegnare la secret gold secondo me è da disegnare come imbarcate di merda sì sono un po' imbarcate anche queste i play set iniziano a costicchiare 3 euro e 50 partendo da 80 centesimi vabbè madonna tantissimo poi abbiamo vabbè cosmo pianeta oscuro anche questa con monoprint guarda non escluderei il fatto che la konami a un certo punto si sveglia e dica wow vogliamo fare un supporto a questa roba spica perché tanto è tutta roba vecchissima ovviamente non è un modo per dire che uscirà un supporto sicuramente però vi dico è come con samurai super pesante che aveva tipo zero print zero ristampe ovviamente se qua fanno un supporto bello decente e forte sta roba con una print sale per forza tutto qua abbiamo la cosmo al signor oscura anche questa sta sui 2-3 euro il grafico è molto altarenante vedete la differenza tra la vendita singola e i play set che stanno tutti a 6-7 euro diciamo che se tu vuoi montare il mazzo effettivamente non è che lo paghi pochissimo se lo vuoi max reality poi abbiamo il cosmo stromen anche questo 2-3 euro più 3,50 che 2 e si guarda è molto piatto poi a un certo punto iniziano i picchi grossi stessa cosa ragazzi la possiamo vedere nella versione ovviamente gold secret picchi da 6 euro io mi chiedo cosa si fuma la gente per voler montare questi mazzi vabbè andiamo avanti con l'ultimo abbiamo la lattina cosmo questa ovviamente non se la incuna nessuno carta da 70-80 1 euro ma ok tipo era faceva tipo la cosmo girl ma peggio e niente cosmo è tutto qua ve lo volete montare ci può stare tenete in considerazione che i prezzi oramai sono questi andando avanti adesso abbiamo o dare e prendere allora erenz voleva che assolutamente la mettessi voglio la motivazione dare e prendere è una carta forte perché c'è il classico synchro hype generale ha una sola prima da duelli spaccotto ok allora dolore evo che specialmente mostra il cimitero nella parte in difesa il terreno sul terreno del tuo avversario e gli aumenti il suo livello di 1 vabbè sarà probabilmente per retroformat non credo per lo standard da quello che ho capito c'è una combo attuale anche ma comunque sì sostanzialmente è formula synchro target synchro spam attivi dare e prendere formula synchro effetto e gli cali quel cazzo che vuoi ok probabilmente qualcuno mi dirà che ci sono altre cose sotto nei commenti perché ma quel che ho capito dal tipo era quello allora stessa cosa questa che è zona synchro anche questa si sta ipando non ne ho capito l'effettivo motivo funziona con i synchro e rievoca da cimitero cioè evoca direttamente il mostro synchro questo ragazzi se ne sapete di più ovviamente scrivetecelo qua sotto nei commenti abbiamo visto in america salire anche da noi leggermente sì sta salendo a 50 centesimi poi boh non avere propria motivazione non ve la sappiamo dire andando avanti abbiamo poi il processore psichico che usciva da fini ho letto l'effetto tipo prima è fortissimo perché posso bandire questa carta dal terreno che controllo evoco due mostri macchina psico e osse verso dalla mano e possono attaccare direttamente durante la standby phase del prossimo turno dopo che questa carta è stata bandita può aggiungere questa carta bandita alla mano può utilizzare questo effetto una volta per turno quindi ragazzi ve la reciclate in continuazione e ne evocate due cioè io in infinitrack vorrei provarla in una roba del genere perché effettivamente mi darebbe tanto vantaggio per caso che psico non è in macchina però vi dirò non mi dispiace sono sicuramente molto interessato a provarla ovviamente attualmente si gioca in nessun mazzo meta quindi sta veramente poco sta 60 poi picchia 1 euro e 60 però sta anche meno sul market però vorrei dargli una possibilità almeno la provo e poi vi farò sapere su instagram ovviamente seguitemi su instagram andando avanti abbiamo l'ultima carta il light and darkness dragon ragazzi questa carta a causa di retro format è salita in ogni salsa non esiste una versione economica di sta roba perché ragazzi io l'avevo messe un pochino sovrapprezzate perché erano in americano questi super o me le hanno comprate quasi tutte me ne è rimasta una e si sta alzando e sono sparite tutte questa è la versione super questa è la versione common ragazzi cioè dall'italia 8 euro common 8 10 15 il playset e questa qui che è ultra che è da rivista è uguale cioè adesso vi faccio vedere ovviamente le quelle più costose che sono queste da rarity si da rarity da retropack che ragazzi non hanno un prezzo non hanno assolutamente un prezzo stessa cosa quelle da rivista secret che anche queste non hanno un prezzo cazzo ne ho una sono molto contento grande bene e con questo abbiamo finito bene a questo giro diciamo che c'è tanta carne al fuoco soprattutto per la roba che deve uscire sono delle cartine veramente top che secondo me qualcosa per quanto riguarda luce della distruzione faranno scendere però sono abbastanza convinto che tutta tutta la roba prima edizione non verrà intaccata minimamente e anche molta roba limited vecchia perché ovviamente conosciamo un po i player dei yugi e la reprint modern non la vedono di buon occhio non tutti ovviamente ma molti si diciamo che per quanto riguarda i set vecchi che hanno ristampato si molta roba di quella lì si è epata però vedo d'altro canto che molta gente non la vuole proprio perché c'ha la print nuova e preferisce giocare per il loro mazzo retro format la stampa vecchia e generalmente la gente ragiona così perché è più bello giocare le carte vecchie sì il problema è che se dopo le WNM devi tra fuori tanti ma tanti soldi diciamo si hypano tutte e due tipo la quella la ristampa sale al prezzo di quella vecchia e poi si vendono entrambi alla stessa cifra più o meno perché ovviamente c'è la versione vecchia un pochino più rovinata ma che costa tanto e la versione nuova che è perfetta e costa uguale e poi scegliete quale giocare tanto i soldi dovrei tirarli fuori comunque e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di quello che sta succedendo cosa sale cosa scende e tutto il resto perché almeno così ne parliamo anche nel prossimo market watch e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti